In occasione della quindicesima edizione del Congresso Mondiale di Medicina Cinese, l'Associazione Sport Dilettantistico e Cultura Cinese Italiana Tu He organizza il primo festival mondiale Salute e Benessere Longevità. L'evento, che si svolgerà a Napoli dal 16 al 19 novembre, è stato presentato questa mattina in sala giunta alla presenza dell'assessore allo sport Ciro Borriello, del consigliere comunale Marco Gaudini e del presidente dell'Associazione Italiana Cultura e Sport Alessandro Papaccio. Questo è un evento che va oltre lo sport, che l'ambice della cultura, siamo convinti di avere una grande partecipazione sia di pubblico che di personalità italiane e straniere che potranno arricchire la nostra giornata. Per la prima volta il Festival Mondiale di Medicina Alternativa Cinese approda nella città di Napoli e porta un bagaglio di conoscenze importante che si inserisce all'interno del nostro bagaglio di conoscenze. Infatti saranno presenti medici italiani del Dipartimento del Secondo Policlinico che saranno lì e che quindi ci spiegheranno come far interagire queste due medicine. Il programma prevede seminari e lezioni tra Piazza Plebiscito e la sede dell'Associazione in via Manzoni sui temi del benessere e della salute attraverso medicine alternative con i consigli di esperti di medicina tradizionale cinese ed occidentale su naturopatia e longevità. La comunità cinese è molto ben presente e radicata in questa città, offre questa possibilità di poter iniziare attività sportive, culturali. Questo è un messaggio assolutamente importante per noi, importante per la comunità cinese ma importante anche per i napoletani. Quest'anno abbiamo organizzato questo grande evento di benessere, salute, longevità e mondiale sulla medicina tradizionale cinese. C'è questi tutti aspetti spiegati dal punto di vista di medicina tradizionale cinese, medicina occidentale, come per la prevenzione, come proteggere, come prevenire le malattie e poi anche come curare con il modo naturale di ginnastica, di fetoterapia. Aspettiamo di tutti poter venire e partecipare, visitare per conoscere questa iniziativa. Grazie.